L'episodio di cronaca di ieri a Polla, un incendio in una casa, ha fatto scoprire una situazione difficile per un cittadino del paese e fatto scattare il campanello di allarme. Si tratta di una persona stimata e, al di là di chi conosca il caso, insospettabile per quanto riguarda una serie di problematiche che invece deve affrontare. Un invisibile che però dovrebbe essere noto a chi opera nel sociale. Ma non è solo sul caso specifico che bisogna soffermarsi, bensì su quanti invisibili ci siano nel Vallo di Diano, quanti, ovvero hanno bisogno di sostegno e magari per orgoglio o per altre motivazioni non lo chiedono, quanti non hanno più una famiglia o hanno amici poco attenti o non vogliono nessun tipo di aiuto anche se ne hanno un gran bisogno. Il terzo settore, quello dei servizi sociali nel Vallo di Diano, funziona? Serve un salto di qualità e di velocità? Gli invisibili ovviamente sono difficili da individuare, in città soprattutto, ma in piccole realtà come nei paesi del Vallo di Diano. Uno sforzo comune in più si può fare e cercare di aiutare così chi ne ha necessità. Non solo le istituzioni ma anche i cittadini, i vicini di casa, le associazioni e chiunque può intervenire. Il nuovo CTA del Consorzio Piano Sociale di Zona, che è stato nominato da pochi giorni, al di là delle beghe partitiche, avrà questo tipo di compito di indirizzo politico. Far essere ancora più presenti sul territorio le proprie donne e i propri uomini, non considerare solo i compiti di ufficio, ma di vita vissuta, concreta, tra incontri, sguardi e necessità reali. Un lavoro di collaborazione con i comuni, con gli assistenti sociali, per fare rete reale, per avere occhi attenti nei piccoli comuni dove gli invisibili non devono essere più tali. Magari anche aumentare il numero di persone sul territorio. Il caso specifico deve suggerire invece una mea culpa dei giornalisti, anche noi, per alcune foto forse non necessarie, per chi poteva intervenire, enti e persone vicine e per tanto motivo non l'hanno fatto, per chi vive sui social e non guarda il vicino, chi guarda il dito del like su Facebook e non la luna del problema reale.